In campo contro ogni barriera per condividere un momento di socializzazione e sana competitività. Protagonisti ragazzi seguiti dal centro di salute mentale di Termoli che frequentano il centro di urno. Il terzo torneo di calcetto è stato organizzato al Parco Comunale come tappa conclusiva del progetto Un calcio all'indifferenza tra gli atleti del centro Che senso ha e quelli dei ragioneria Boccardi che ogni settimana si incontrano per gli allenamenti. Al quadrangolare Molise e Abruzzo hanno partecipato i giovani delle squadre di calcio a 5 del liceo di Larino, del Boccardi e della fondazione Padre Alberto Mileno di Vasto. Innanzitutto divertirsi perché con lo calcio, con lo sport ci si diverte. Poi lo stare insieme, socializzare, conoscersi un po' di più. I ragazzi che frequentano il centro rispondono sempre ottimamente a tutte le attività che facciamo hanno voglia di uscire di casa e di trovare un modo proprio per alzarsi da letto come tutti quanti noi. Il torneo si inserisce nell'ambito di un processo che va avanti da oltre un decennio e vede impegnati pazienti, operatori e specialisti soddisfatto per la riuscita dell'iniziativa lo psichiatra Angelo Malinconico, direttore del centro di salute mentale di Termoli. Il calcetto, attività in cui crediamo molto, è incardinata in tutte le altre attività riabitative del centro di salute mentale. Fino a qualche tempo fa era direttamente il CSM ad organizzare il torneo, o questi tornei che ormai sono diversi. Adesso il tutto è appaltato al centro di urno. Il centro di urno che senso ha? Il suo nome è un po' particolare, è scelto dagli utenti. E quindi l'iniziativa sta prendendo sempre più piede. Proprio recentemente sono state un torneo nazionale a Troia, piazzandosi anche bene, vincendo due partite con una caterva di gol. Insomma, siamo molto contenti, soddisfatti e questa iniziativa andrà avanti sicuramente.